Lui è l'Apo. Hanno affidato all'Apo la gestione della rete elettrica della sua città. In un mondo in cui il consumo di energia è in costante aumento e di conseguenza aumenta anche il prezzo, l'interesse degli enti locali è di contenere il costo energetico. Il 40% del budget delle città è destinato alla spesa per la rete elettrica esterna. Quindi l'Apo ha deciso di trovare una soluzione. Sì, ma quale? Appoggiandosi alla soluzione SimpleCheck. SimpleCheck lo aiuterà a censire tutti gli elementi che possono influire sul consumo energetico. Quindi illuminazione pubblica, semafori, pannelli pubblicitari, cabine telefoniche. Come? Esiste ancora? Tagliando corto, l'Apo ottiene una carta interattiva con tutti questi dati. In seguito l'Apo condivide SimpleCheck con i professionisti, in modo che ogni informazione proveniente dalla città venga centralizzata. Ed è così che l'Apo ha una soluzione collaborativa che gli permette di avere una semplice e pratica visione per controllare il suo patrimonio. Con la centralizzazione di informazioni, l'Apo ha a disposizione uno storico che gli permette di prendere conoscenza del budget reale per il mantenimento della sua città. Ed è così che sono già stati fatti dei risparmi solo rappresentando i dati su una mappa geografica. Oh, l'Apo! E se le infrastrutture non funzionano correttamente, come fanno gli utenti ad aiutarti? Non avendo il dono dell'ubiquità, l'Apo ha deciso di essere più trasparente con tali dati pubblici. SimpleCheck è condiviso con gli utenti. E l'Apo ora ha un occhio sul proprio patrimonio. Wow! Diventiamo tutti attori della nostra città? Come facevamo prima? Avvertivamo l'Apo via fax, mail, posta. L'Apo, ma quanta fatica facevi a gestire tutte le informazioni scritte su questi fogli? Con SimpleCheck, l'Apo ha rivoluzionato il modo di condividere le informazioni, permettendo agli utenti di diventare attori della città e contribuire al miglioramento della vita in città.